Amici del Centro Stampa Genga, buonasera. L'apertura di un negozio e di un'attività commerciale è sempre un qualcosa di positivo. Ci troviamo in via Marconi 24, dove una volta c'era la banca, la cassa di risparmio di Fabriano e Cupra Montana. Vediamo insieme cosa è diventato. Eccolo, vediamo qui una bicicletta elettrica, tecnologica, di alta qualità. Non è una bicicletta elettrica qualunque, quasi 100 chilometri d'autonomia. Bellissimo il messaggio che ha fatto l'Aerabike di Angelo e la sua compagna. Passate la macchina e usate la bici elettrica per risparmiare, per guadagnare la vita, per vivere di più. Eccolo. Angelo, ci presenta in primo piano la bici tecnologica. La inquadriamo con lui. È un mezzo bellissimo. Adesso non guardate, non guardate ai 2.000 e poco più euro che spenderete per comprarla. La potete comprare, spero anche a rate, qualche piccolo interesse perché tanto è la ditta, non è la ditta, è la banca o la finanziaria che lui si rivolge. Ci sono tanti modi poi. Tanti modi. Per acquistarla. Ecco, ecco lo angelo che conosco da quando siamo nati. Ci ha avuto una bellissima idea. Quindi non è un tipico negozio che vende roba usata, roba riciclata o roba contraffatta. Questa è una società originale che viene da Padova, originale. La batteria dura quasi 100 chilometri in base alla velocità. Abbiamo anche un bellissimo tacquimetro che vi segna i chilometri, la distanza e il tipo di velocità che andate. Quindi si cambia, si cambia praticamente la tipologia del percorso. Certo se andate in piano non mettete in salita, non mettete in discesa. Quindi se sapete usare il tipo di velocità, è scritto passe 1, passe 2, passe 3, passe 4, passe 5. Quindi praticamente la bicicletta vi dura una vita. È costruita in alluminio, è bellissima. Adesso non guardate il prezzo, adesso non lo so, 2005-2006. Dopo in base al modello... Dopo in base al modello, ecco bravo angelo che è disponibile. Quindi il centro stampa Ginga. Siamo liberi per fare una prova, un test. Un test e dopo ci mettiamo d'accordo sulla modalità di pagamento. L'importante è comunque la qualità Ambrosio. Ambrosio corre sulle strade italiane del ciclismo internazionale, italiano, internazionale e mondiale. Ambrosio è una marca di cerchi di alto livello. Quindi la bicicletta si può provare tranquillamente. Sta arrivando altra gente. Ecco, è una bicicletta tecnologica. Fate un acquisto, fate un investimento. Non è che comprate un tipo di qualcosa che vi dura, poi dovete buttare via la batteria, perché adesso non so quanto dura la batteria. Circa 70 chilometri. 70, no, no, la durata di vita. Di vita? 800 cicli. 800 cicli, quindi praticamente... Mi vale dire dai 3 ai 5 anni. 5 anni e mettere la batteria normale dopo 2 anni la buttate via. Dopo non so se la trovate perché... Se questa ditta tecnologica di Padova produce batterie, avrete la possibilità di trovare batterie, cambiarle e la bici praticamente vi dura una vita. Quindi non è una ditta qualunque. E Angelo ci ha avuto una bellissima idea. Inquadriamo gli amici che sono venuti. Perché questo non è un aspetto commerciale. È perché la gente deve credere. Perché credere in Gesù Cristo, nella religione, in un qualcosa di strano è difficile. Però credere in un qualcosa di tecnologico è più facile. Adesso io non voglio rubare la religione ai preti o ai vescovi o al Papa. Però di gente ne viene molta e sono contento perché ci crede. Quindi al numero 24 di via Marconi l'Aerabike vi offre la qualità. Perché non è che vi mette in mano il prodotto, ci provi, sette volte va, se non ti attacchi. Qui c'è la garanzia di qualità. La garanzia perché queste sono cose che durano nel tempo. Quindi è giusto che l'Aerabike ha avuto questa bellissima idea all'alternativa alla macchina. Noi abbiamo le grotte, abbiamo i paesi vicini raggiungibili facilmente. Quindi la bicicletta è un mezzo da riscoprire. Quando una bicicletta non fai fatica, la bicicletta ti serve a qualcosa, praticamente la compri in contanti. Dopo vi mettete d'accordo con la ditta per i modi di pagamento. E noi abbiamo la vendobanca o le altre banche, praticamente per fare i piani di finanziamento. Perché adesso non so con che tipo di finanziamento loro trattano, però loro cercano non di darvi dei materiali così da pochi prezzi. Ma materiali di garanzia, durevoli nel tempo, li pagate nel tempo e avete la possibilità di godervi questo bene. Perché questo è un bene durevole, un bene che dura nel tempo. Quindi questa attività si chiama Aerabike. Io non ho davanti il cellulare. Comunque se mi seguite su Facebook cercherò di informarvi sulle varie attività. Aerabike, sulla vetrina c'è Aerabike e c'è il sito www.erabike.it Quindi trovate le informazioni necessarie per accedere a questa attività. È una bellissima iniziativa. No, è una pubblicità seria perché queste cose sono... Quando vedi queste cose e ti commuovi, ti scappa qualche lacrima perché mi ce credi. È qualcosa di serio. Che quando ti propongono certe cose, le compri. Una volta che le comprate, trovi la sola che fai. A voglia, madonna. Praticamente nemmeno te ridanno indietro la roba che compri. Qui il negozio è vicino, via Marconi, la strada che va a Sassoferrato. Quindi praticamente è una strada importante. No, poi per qualunque necessità, una vite che s'allenta, la catena che s'allenta, una vite che magari la perdete. E Angelo trova il sistema per... Angelo ha volato nel cielo diversi anni. Adesso ha fatto questa attività. Quindi dal cielo è scesa la terra, non per rimanere in terra, ma volare con queste aerobike, queste Raptor, perché sono delle biciclette tecnologiche, bellissime, durevoli nel tempo. Quindi ragazzi vi aspettiamo in via Marconi 24 a Genga Stazione. Una prova e devo dire vi divertirete. Sarà una bellissima esperienza e la bicicletta la prenderete, perché Angelo vi assiste dalla vendita alla post vendita. Quindi ci vediamo col prossimo filmato, perché ogni tanto andremo a visitarlo e vedremo come... Non dico andremo a vedere nel borsellino o nel cassetto dei soldi, a me i soldi non importa. L'essenziale è che queste cose vengano credute e la gente si convinca a cambiare. Che invece di andare con la macchina per fare 200, 300, 400 metri, prendete un Air Raptor. Vi dura una vita. Air Raptor garanzia di qualità. Grazie per l'ascolto e ci vediamo a presto. Un saluto ad Angelo.